Con l'ultima partita contro il Novara si è chiuso il precampionato del Milan, una pre-season di alti e bassi. Si sono viste alcune cose buone e altre meno. A centrocampo, Reinders e Loftus Cixi sono inseriti bene nei meccanismi di Pioli e hanno già fatto vedere le loro potenzialità. La difesa invece è ancora da rodare, da sistemare perché alcuni gol presi per sbagli individuali erano evitabili e non sono più ammessi errori da lunedì perché partirà il campionato o la prima giornata a Bologna e ogni sbaglio potrebbero anche essere dei punti persi. Cose buone si sono viste in America contro il Real Madrid e Juventus, meno con il Barcellona dove il Milan ha sofferto i ritmi alti imposti dalla squadra a Bologna. Con il Trento la sconfitta lascia il tempo che trova perché sinceramente per quanto riguarda me i risultati di agosto lasciano il tempo che trova e non mi interessano relativamente. Non ti interessa più a che altro il gioco e il lavoro, quindi il rodaggio della squadra per arrivare in forma all'inizio del campionato. Ovviamente c'è tempo, lunedì si inizierà però fino a fine agosto il mercato è ancora aperto quindi ci potrebbero essere anche altri innesti e anche delle uscite. Domani il De Keteler dovrebbe effettuare le visite mediche con l'Atalanta quindi un giocatore in uscita, si parla sempre di Cunici in orbita a Fenerbahce ma il Milan non vuole cedere il Bosniaco. Su Colombo ci sono Cadere e Genoa però anche qui il Milan sta valutando se tenere ancora il giocatore oppure cederlo in prestito. Ma ovviamente se dovesse uscire Colombo ci sarà qualche entrata. Origi rifiuta tutte le destinazioni e quindi a questo punto è un rebus, un punto interrogativo. Per quanto riguarda il resto non c'è altro da aggiungere, il Milan lunedì esordisce il campionato a Bologna quindi si comincia a fare sul serio. Come sempre forza Mila e buon Ferragosto a tutti quanti.